Una proposta di lavoro concreta per i giovani dai 18 ai 28 anni. Questa mattina Legambiente Abruzzo si è fatto promotore di un'iniziativa che rientra nel programma Erasmus della Montagna e il nome dice tutto. Il bando 2022 pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili riguarda 72 operatori volontari del servizio civile, avvicinare i giovani a territori che subiscono sempre più il calo abitativo e offrire un'opportunità di lavoro concreta grazie alle risorse del territorio. Questo è l'obiettivo che coinvolge anche i GAL, i gruppi di azione locale. È una cordata di organizzazioni a livello nazionale nata come Erasmus dell'Appennino perché all'inizio i promotori erano tutti dell'Appennino, poi si è allargata perché abbiamo avuto l'adesione anche di tante organizzazioni che sono in zone alpine, quindi è diventato Erasmus della Montagna. Tutti insieme organizziamo, attraverso il servizio civile universale, portiamo giovani volontari per un anno a lavorare nei progetti di sviluppo, ma anche a fare una formazione molto qualificata. C'è un corso nazionale dove per cento ore si insegna sviluppo locale con i migliori esperti che abbiamo in Italia, c'è un campo che si fa ogni anno, quest'anno l'abbiamo fatto in Val Brembana, dove i ragazzi si incontrano provenienti da varie parti d'Italia e si cimentano in idee progetto con gli abitanti di piccoli borghi, insomma in zone molto marginali, quindi è un'attività tecnica, si lavora sul territorio ma si impara anche. Qualche dettaglio sui tre progetti. Il primo riguarda gli attori dello sviluppo sostenibile della montagna. A disposizione ci sono 38 posti. Per il progetto settore agricolo in zona di montagna e biodiversità sono 16 le opportunità e altre 16 sul patrimonio ambientale. Gli occhi di tutti diciamo l'azione del cambiamento climatico, abbiamo un inverno con scarsa neve quasi per niente, turismo della montagna in crisi, quindi per noi che come lega ambiente abbiamo sempre seguito e attenzionato questo spazio a partire dalle politiche di Appennino Parco d'Europa, questo per noi è un programma per ripercorrere alcuni elementi e tenere in campo un'azione concreta che possa favorire soprattutto le giovani e le generazioni a rimanere su quei territori e a confrontarsi e crescere con reali occasioni di sviluppo locale. Questo è reso possibile attraverso questa collaborazione sviluppata con i Galli in Abruzzo e in particolare con il Galmella Verde. Sarà possibile presentare domanda entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio sul sito domanda online servizio civile.